è rinato un amore una bella notizia per i fan dei basciagoni i due ragazzi hanno deciso di darsi una seconda possibilità naturalmente stiamo parlando della bella coppia di sofico de goni e alessandro basciano il loro amore era sbocciato proprio davanti alle telecamere del grande fratello vip nel 2021 ora pensate è stato proprio sofì con alcune storie sulla sua pagina instagram a raccontare il viaggio alle canarie che la bella influenza sta facendo dai nonni e pensate la ragazza non solo ha presentato la sua piccola selene blu ma anche il suo compagno alessandro basciano adesso siamo in attesa di un primo scatto di coppia che ufficializzi il tutto ma c'è già chi parla che i due ragazzi sono inseparabili e a distanza di quattro mesi dall'annuncio della loro separazione ora sono ritornati più felici e complici di prima alessandro ha lottato molto per questo amore e per un dolce lieto fine che tutti aspettiamo perché quando c'è amore c'è anche perdono e una rinascita più forte e consapevole di prima Grazie a tutti.